Ines Corporation è una start-up innovativa fondata due anni fa da un team di ingegneri che operano nel mondo della Formula 1 e dell'America's Cup, che hanno unito competenze e passione per dar vita a un progetto unico. Dalla nostra terra, l'Italia, l'Emilia-Romagna, abbiamo imparato ad amare la bellezza, la velocità, la tecnologia e il comfort. L'evoluzione tecnologica ha rivoluzionato interi settori produttivi, ma non il mondo della nautica, dove si è investito molto in design e comfort, ma non in ricerca e innovazione. SuperFoil 15 è un'imbarcazione unica al mondo, frutto di progettazione, studi e test di altissimo livello, che nasconde un segreto tecnologico che rivoluzionerà il concetto di navigazione. Professore, qual è il segreto del SuperFoil 15? È un'imbarcazione completamente innovativa, basata sul principio dell'utilizzo di appendici fluidodinamiche che vengono poste sotto lo scafo e permettono il sollevamento in corsa dello scafo stesso. Il movimento delle ali permette anche una regolazione della posizione dell'imbarcazione sull'acqua, garantisce velocità di punta molto elevate con motorizzazione e consumi estremamente ridotti e permette di avere un comfort a bordo che altre imbarcazioni non possono avere. E qual è stato il metodo di lavoro su questo progetto? Il metodo di lavoro si rifà alle metodologie più avanzate di progettazione che vengono utilizzate nelle competizioni, sia di tipo nautico che anche in altri settori. Quindi materiali particolarmente leggeri e al tempo stesso capacità di realizzare stampi con estrema precisione. Dall'altra parte una grande quantità di simulazioni al calcolatore per riuscire a conoscere e a prevedere le condizioni di lavoro delle imbarcazioni. Il progetto è nella fase conclusiva. Allora, al termine di tutte le simulazioni siamo in grado di conoscere il comportamento dell'imbarcazione e di prevederlo. E dall'altra parte sono iniziati i lavori di realizzazione degli stampi per la carena e per la coperta. In S Corporation, inoltre, possiede un brevetto già depositato di integrazione alla propulsione che verrà utilizzato per la produzione di un innovativo modello di 10 metri. Grazie a questo sistema riporteremo tutti i vantaggi di Superfoil 15 anche su imbarcazioni di metratura inferiore. Il mondo della nautica non sarà più lo stesso. La produzione di Superfoil 15 è iniziata e con i fondi che stiamo raccogliendo metteremo presto in mare la prima imbarcazione al mondo in grado di volare sull'acqua. La produzione di Superfoil 15 è iniziata al mondo in grado di volare sull'acqua. La produzione di Superfoil 15 è iniziata al mondo in grado di volare sull'acqua.